Siamo con Armando Grillo della Foto Moderna Grillo, dodicesima edizione del calendario IPD Persona Down, calendario 2019. Armando, il tema di quest'anno, parlaci un po' del lavoro, del progetto che avete messo su anche quest'anno. Allora, quest'anno abbiamo voluto realizzare dodici scatti di dodici momenti di film che hanno fatto la storia in Italia. Naturalmente lo abbiamo fatto come un gioco perché simulare tutte le scene di artisti e di registi di un certo calibro non era facile, quindi abbiamo deciso di giocare su questo argomento. Questo calendario lo faccio con grande passione e con grande cuore perché veramente questi ragazzi mi riempiono di gioia e mi danno una carica in questi set. Io l'ho sempre detto che è il set più bello, io come voi ben sapete lavoro nella moda, lavoro nel wedding, ma il set più bello, permettetemi di dirlo, è sempre questo, con questi ragazzi perché mi danno un'emozione grande. Grazie di cuore a tutti, alla famiglia Calipo che ci dà l'opportunità, grazie a Pino Bagnato e grazie al mio studio e ai miei collaboratori che sono sempre vicini a me e anche grazie a loro riesco a realizzare tutto questo. Grazie di cuore veramente.